Alla a tutti ragazzi, è il vostro Luke E oggi siamo qui a bomba in un nuovissimo video Tornati su The Legend Craft Si ragazzi, la mia dislessia si fa sentire come sempre Ma sapete una cosa ragazzi, sti cazzi Purtroppo ragazzi, è riniziata la scuola come voi ben sapete Quindi ho avuto poco tempo questi giorni per fare i video E di conseguenza si è ricominciato subito a studiare Mannaggia la miseria E infatti ragazzi, mi sentite un po' Che la voce si perde, eccetera eccetera Perché appunto, riniziando a studiare Faccio fatica anche a parlare, si Perché ho appena finito di studiare storia Una decina di pagine, non è mai bello Comunque ragazzi, detto questo, vi devo dire una cosa Bruttissima, atroce Raga, nell'altro video Di The Legend, che non avete visto però Perché dovevo caricarlo, ma non l'ho caricato Ho perso il piccone Kit Boia, infatti questo qua me l'ha prestato Gentilmente David, che è quello che poi Gli ho regalato io, con Escavision 2 E quindi quello serial killer Raga, non vi posso dire come l'ho perso Anzi ve lo dico, così magari mi insultate Soprattutto colui che me l'ha dato, che non ricorderò mai Chi è stato, però davvero ti ringrazio E ti chiedo anche scusa Perché comunque è un regalo molto grosso E l'ho sprecato così Comunque ragazzi, come è andato a finire? Stavo laggando quel giorno mentre Riccavo, e un giorno invece di andare davanti Con la W, ho cliccato Q Perché col freddo che fa ragazzi Addirittura anche i guanti in casa, nonostante ci sono I riscaldamenti, perché sono un tipo molto Freddoloso, ok? Quindi con i guanti, ho toccato un po' troppo la Q Ho droppato il piccone nel momento in cui passava il clear lag E ha tolto gli oggetti per terra Ed è stata una cosa bruttissima Voi non potete capire Ovviamente io non pensi di me raga Però talmente che mi sono incazzato in quel video E scusatemi il termine Non l'ho caricato Giusto per rispetto a vostro Perché era un po' brutto sentirmi incazzato Perché capite? Soprattutto mi sono arrabbiato raga Perché era un regalo Quindi io quando faccio 6 cacate Mi dispiace Poi inoltre perché era comodo Cioè avevo raggiunto, guardate, quasi un miliardo Però il fatto che ho perso quel piccone L'ho preso in quel posto Quindi sarà più lenta la mia farming Allora raga, andiamo al Warp R E andiamo a parlare di tante cose Prima cosa ragazzi io vi invito a lasciare un like Per un prossimo video su The Legend Vi ripeto raga, perdonatemi se ultimamente In questi giorni ho caricato pochi video Però alla scuola non pensavo che mi creavo questo stress Ok? Diciamo che stress Perché già compiti, interrogazioni subito subito Ed è già pesante Quindi spero di riprendere sicuramente Andare a settimana prossima con tranquillità Perché comunque una volta che inizia la scuola Si prende tutto con calma E speriamo di riportare la serie Minecraft D'obiettivi Inoltre raga vi invito ad andare a passare Anche sulla pagina Facebook Che sto anche dicendo quando non carico video E perché E di conseguenza mi fa piacere Se vuoi appunto ad andare a lasciare like Soprattutto perché stiamo arrivando ai 60 Ed è bellissima questa cosa Perché comunque raga Ai 60 è un buon traguardo Soprattutto perché ragazzi non ho mai pubblicizzato In ogni video la mia pagina Facebook Quindi è il momento che lo faccio un po' Perché anche per aggiornarvi eccetera Altra cosa Andate anche sul profilo Instagram E voglio aggiornarvi sul fatto del bot di Telegram Sono a buon punto con il bot per i feed eccetera Però ci sto ancora lavorando E soprattutto il canale Telegram Ve lo comunicherò Tra qualche giorno barra settimana Ragazzi vi ripeto Dipende quanto ho tempo per editare Infatti C'è per editare Scusate per crearlo Perché Sto recando questo video Subito dopo aver finito di studiare Perché calcolate Devo editare Fare la miniatura E devo studiare Anche informatica Vuoi dire Di lui come me Che mano fricca Che devi studiare Vi voglio informare Su come si svolge La mia giornata oggi Quindi ho tanto stress accumulato E di conseguenza Recco subito di fretta Quindi se dura poco Vi chiedo Umilmente scusate Poi ragazzi Come voi ben sapete Dico in ogni vita Mi piace appunto scavare Così intanto vi racconto la mia vita Quindi Vi racconto quello che faccio E come andare al canale Di conseguenza Ci saranno ancora questi video Per chi me l'ha chiesto Sull'opi Lucky Bryson Assolutamente E la stessa cosa Sullo Sky Grid Soprattutto ragazzi Per chi non ha visto Quel video dello Sky Grid Se lo vado a vedere Perché ho visto poche views Ma ho un sacco di like E sono rimasto contento E spero che anche oggi Riusciamo ad ottenere Lo stesso risultato Perché davvero Ragazzi Mi sto impegnando con i video So che ne sto facendo pochi Ripeto Come ho detto anche all'inizio Però c'è stato questo stress Spero di buttare via Questo stress E cominciare A gestire il canale Come Dio comanda Ma perché Fattene via tu Che cacchio ce l'ho a fare Lucky Bryson E Lucky Bryson Il Lucky Block Vabbè sono anch'io fuso Però ragazzi Io non ho fatto salutare YouTube Adesso che ci penso Quindi facciamo salutare YouTube Ho provato a far salutare Ragazzi però Non vedete qualcuno saluti Intanto grazie per Davide che mi dà 2 milioni Ciao YouTube Oh c'è stato qualcuno Che saluta Ciao YouTube Sporco Ciao Ciari Ciao Beppe Luzio Ragazzi quando vedete Che io saluto Gente proprio determinata E appunto Perché mi saluta a me Vedi per esempio Beppe Luzio mi saluta Due volte Ciao Ciao Dark World Angel Non lo conosco Comunque non l'ho mai sentito Da quanto tempo Poi Quella YouTube Ciao Samu King Ciao Seme Ah ok Quel ragazzo che mi ha contattato Che mi diceva Luke mi vuoi far sapere Quanto orecchi A me mi fa piacere Soprattutto che mi contattate Mi iscrivete Sia sulla pagina Facebook Che su Instagram E che vi rispondo Come si chiama il tuo canale Ciao Tupo Oh si chiama Luke17 The best addirittura Ciao Seme Comunque Mi fa piacere Che ti sei fatto riconoscere Chi sei E ti saluto davvero tanto Perché raga Mi hai venuto a contattare Sulla pagina Instagram Dicendo che piacevano Appunto i miei video E che non vedeva l'ora Di vederne un altro Dell'opera che i Bryson Quindi un saluto speciale a lui Vittorio Paolo Non so cosa c'è E raga davvero Sono molto contento Che c'è Dicami Mi vendi Aromare Piccone Del tuo kit Eh già l'ho venduto Cioè raga Poi io dico venduto Ma in realtà l'ho regalato Dico venduto Perché Ecco così Rank R Luke Dicimi quanto è bello Il mio lotto Arrivo Azz Azz Cazzo Ci sono due Luke Dicendo quanti iscritti hai 1100 Raga arrotondiamo Però siamo già arrivati A 1120 addirittura Raga si sale Mi dispiace per le vuse Che sono rimaste lì Però si sale Questo lotto Non è che faccia schifo Eh attenzione Perché Sapete che mi sembra Raga Mi dà proprio quello stile Di campagna Molto tranquillo Molto sexy E appunto molto tranquillo Dai ci sta come lotto Non è male Ok mi sono iscritto Luke Ok Ciao Peppo Gaper Poi mamma mia raga Quanta gente che c'è sta in chat Che spamma Poi un altro ragazzo Raga mi ha scritto nei commenti Luke mi saluti Raga ma nei commenti Non è per cattiveria Ma non me li ricordo Ok Perché c'è molta gente Che mi dice Mi spamma eccetera Quindi non mi ricordo mai I commenti Molti potrebbero Luke ma basta che vai a vedere Basta che vai a vedere Sotto i commenti del video Ogni volta Raga ma Sapete che andate a vedere Ogni volta lì sotto Prima che recco Io recco sempre all'improvviso Per queste perdite di tempo Quindi E' un po' difficile Ma che c'è Truffatore Samu King Perché una volta Truffatore Una volta il lato Non c'è sa capiamo chezza Quindi vi ripeto Raga Scorpion mi dice Stai registrando Eeeh Sì Scorpion Raga Scorpion Per chi non sa E' il founder Che dice che segue La mia serie Quindi un saluto speciale A Scorpion E il nonno Soprattutto Che tra gli staff E' quelli che seguono Di più il canale Quindi vi voglio bene Un sacco Un bacione Ciao Youtube Allora Un saluto anche da Scorpion Addirittura Quest'onore Allora raga Dopo aver addirittura Un saluto da Scorpion Addirittura Questi livelli Direi che possiamo fare Sell E ci vendiamo la roba Raga mi fa piacere Che molta gente Mi riconosce Questa è la cosa più bella Perché Nonostante ci sono poche views C'è gente che mi critica Quando vedo queste cose Davvero mi rende onore Poi una volta C'è una volta Ieri ragazzi Sono entrato nel TeamSpeak E vedevo Un utente che è entrato Luke ma sei davvero tu Ti stimo Sei un grande Poi vabbè Facevo le battutine Sei grande Vabbè Sì è vero Dovrei anche dimagrire Facevo le battute Però non so se diceva seriamente Perché mi sembrava Abbastanza euforico E queste sono cose Che davvero Mi fanno piacere In tal caso Non ero un troll Perché Raga Nonostante avendo un canale Così piccolo Vi faccio divertire Poi dire Sei un grande Anche se ho girato Poi se dite La mia stazza Sì Comunque Vi faccio divertire Eccetera Mi fa molto piacere Perché questo qui È il mio obiettivo Andiamo al Warp R E raga Appunto Ho intenzione di fare una cosa Visto che siamo sempre su The Legend Ne posso parlare Ho intenzione di comprare Un VIP Sullo SkyGrid Cosa che consiglio anche a voi Attenzione Ne sono stato pagato da nessuno Per dire questa cosa E non me l'hanno manco chiesto Gentilmente Voglio dirvi questo Perché raga Lo SkyGrid È la modalità più giocata Più giocata di tutte E fino a che Non estendono le macchine Del server Appunto Perché più o meno Sa cosa Come funzionano i server Ci vogliono i big money Giusto? Eh Giusto sì Di conseguenza Raga Vi invito a comprare Dei server Dei VIP Anche quello da 5 euro Poi se uno vuole fare la spesa Quello Bedrock In modo da sostenere il server In modo che comprino Delle macchine Per sostenere più player Questo credo ragazzi Sia una cosa Che faccia onore a tutti Io per questo Voglio comprarlo Anche quello da 5 Giusto per sopportare Un po' come donazione Alla fine è una donazione Con qualcosa indietro Perché abbiamo un VIP Appunto Per far aumentare Le slot Di player In modo che Molte persone Possano giocare Di conseguenza Vi invito a farlo Vi invito A comprare un VIP Da 5 euro Oppure chi non può Ragazzi Non sto obbligando Vi ripeto Non mi hanno pagato Per dirlo Lo sto facendo In mia spontanea volontà Giusto perché Credo che Questo server Meriti molto E deve crescere A livello di server Soprattutto perché Ragazzi Merita davvero tanto Io non so che dirvi Per me Merita tanto Quindi ragazzi Vi invito a fare Un acquisto Un acquisto di VIP Ma non guardatela Soltanto come Un vantaggio vostro Per avere il VIP Oppure perché Fate i fichi Soprattutto per una donazione Per i server Io se lo faccio Per questo E per il mio primo VIP Che comprai Fuggitivo Lo comprai Perché appunto Volevo un VIP Per fare il figo Lo ammetto Per scrivere in chat Scrivere in chat Eccetera Però Poi è arrivato Scorpion E per ringraziarmi Di quei video Che ho fatto Mi ha regalato addirittura Il Kilt Il Kilt Vabbè Il Kilt Falsario Da 20 euro Quindi mi ha fatto L'app credit Di 15 euro E davvero Lo ringrazio molto A gratis ovviamente E Questo davvero Mi rende onore Soprattutto perché Mi fa piacere Che defondere Qualcune Cioè persone Diciamo importanti No Che importante Sono importanti Per il server Tendo è vero Che lo pagano Hanno Una buona vista Nei miei confronti Del mio lavoro Sì mi sono un po' Impabbocchiato Però può succedere Comunque raga Io qui Sto per finire tutto C'è un ragazzo Mi ha detto Luke ti posso donare Però non mi è arrivato nulla Però no Perché dopo Lo devo ringraziare Perciò ragazzi Controllo Quanti soldi ho Inoltre Perché la sopra Non è che tanto Ci capisco Sono fatto così Money 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 Ho Due miliardi No Che due miliardi Ma allora ho detto male Prima non era un miliardo Oh sì Eh Eh Ragazzi ho due miliardi Quanto ci serve Per rancare Se no Cioè ragazzi Vedete quanto sto facendo Nerdando 3 mili 4 milioni Eh 4 milioni Ragazzi comunque avete notato Che ultimamente È un po' difficile Trovarmi sul price Perché sto nerdando Un sacco Un sacco Un sacco Un sacco Sulla Sky Grid Soprattutto mi stanno aiutando Michele Ninja David Ice I soliti del TeamSpeak E quindi mi danno un grande amare Sono al tuo plot Oh che mi devi donare Il sangue mi devi donare Ragazzi Ultima cosa Svediamo la donazione E poi I go out Non è che devo uscire Attenzione Perché il mio anglese È spiccato male Ok David Dalla roba Seme Seme Che cazzo Che cazzo Facete Eh Strunz Non so cosa vuole fare Seme Kit furfante Va bene comunque Ma io non ho capito Lo vuole dare a me Kit furfante Io non ci sto capendo Un guess Non per dire Seme Io non ho capito Un guess Di quello che vuoi fare Comunque in ogni caso Ragazzi Non pretendo regale Stai buttando la schifezza Ti ho visto Ti ho visto Mi dispiace Ti ho visto Comunque ragazzi Io spero che il video di oggi Vi sia piaciuto In tal caso lasciate like Un like soprattutto per Scorpion E il nonno Onnipresenti Almeno nei video Li guardano Però non commentano Quindi non ho le prove Che li guardano Comunque a parte gli scherzi Lasciate like Commentate il video Condividetelo Ma soprattutto Iscrivetevi al canale E vi ricordo una cosa Molti si lamentano appunto Che nello SkyCrit Non ci sono slot Compratevi un VIP Sia per avere l'accesso Sicuro Sia per aumentare le slot Donando al server Quindi raga Mi raccomando Like, commento Condivideteci Ci becchiamo al prossimo video E ciao a tutti ragazzi